Eccoci qui, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di lasciare un like qui sotto e di iscrivervi sul logo AL. Allora, già ieri avevamo parlato di Donna Rumma qui su questo canale, per alcune indiscrezioni sul suo futuro secondo me senza senso. E che cosa succede? Che nel frattempo ieri sera è successo dell'altro. Donna Rumma scende di campo con il PSG, gioca e combina l'ennesima papera. Incredibile, quando ho visto non ci credevo, cioè ragazzi sta diventando la costante, sta diventando la regola. Donna Rumma che se gioca la combina, pensate quante papere ha fatto ultimamente, quanti errori ha combinato non soltanto con la nazionale, con il PSG. Celebre ovviamente l'erroraccio che è costato all'eliminazione in Champions League con il Real Madrid. Ma poi quanti ne ha fatti? Anche dopo in campionato, ultimo quello di ieri con il Marsiglia, con il PSG che poi ha un potenziale notevole, vince la partita. Ma lui di fatto finisce ancora una volta nei premi con una prestazione in colore, esce di fatto a vuoto la pasticcia, la palla poi rimane lì e viene buttata dentro da un giocatore del Marsiglia. Si è perso, si è perso. Me lo chiedo davvero, cioè è destinato ormai a una carriera di questo tipo? Ha perso le proprie certezze? Di fatto lui era in una situazione in cui secondo me doveva rimanere ancora per qualche anno per crescere. Ha voluto fare il passo più lungo della gamma per acquistare denaro. E il suo percorso di crescita di fatto si è interrotto e ha fatto parsi indietro. Ha perso certezze a livello mentale, non sembra così forte come sembrava da un punto di vista mentale, anzi. E quando finisce in un tunnel fai fatica ad uscire. Io ho la sensazione che lui non diventerà mai più uno dei principali portieri al mondo, dei top 3 al mondo. E gli errori sono incredibili, la sequenza è numerosissima. Sta facendo in sei mesi, non giocando neanche sempre, tra l'altro, una serie di errori che un portiere normale quasi fa in una carriera. Cioè quante volte abbiamo commentato erroracci di Donnarumma? Si è perso? Gigio non c'è più? Io questa domanda me la faccio, me la faccio e mi lascio un po' senza parole. L'incredibile evoluzione di un portiere che era sulla cresta dell'onda vincendo l'europeo da pararigori, miglior portiere, miglior giocatore del torneo, secondo me non ha ragione. E poi ha avuto un declino inesorabile. Pazzesco, lascia davvero senza parole, caso da studiare e io ho la sensazione che lui un top 3 al mondo non lo diventerà mai. Sono stato nei 3, forse dovrei allargare i 5, lo vedremo, se va avanti così neanche nei 10. Incredibile, ditemi che cosa ne pensate, scrivete un commento qui sotto, vi invito a lasciare un like e iscrivervi numerosi sul logo L. A presto, ciao e buona lunedì.